Ed eccoci qui ragazzi con una nuova recensione in vista degli Oscar 2021 e quest'oggi parliamo di Pieces of a Woman Penso di averlo pronunciato correttamente, ma in caso non fosse In questo caso parliamo di un film candidato ad un solo premio Oscar vale a dire quello per la miglior attrice, Vanessa Kirby che fra l'altro ha pure fatto un ruolo in The Crown lo so, The Crown lo devo vedere, lo vedrò aspetto la quinta stagione così la gente spoilerà tutto anche se è una storia vera quindi le cose si sanno me lo vedrò dopo quando tutti l'hanno visto con calma non c'entra un cavolo con questo film, scusate il film è ispirato a fatti realmente accaduti alla sceneggiatrice del film e al regista che all'epoca dei fatti erano marito e moglie e poi hanno divorziato fra l'altro Vanessa Kirby ha anche vinto la Coppa Volpi al festival per questo film quindi ha già vinto dei premi e chiaramente a livello di rilevanza mediatica non sarà un film che farà parlare troppo di sé visto che è nominato solo a un premio quindi se ne sentirà parlare relativamente anche se comunque parliamo del premio Oscar all'attrice protagonista che tendenzialmente è uno dei premi più importanti i primi premi assegnati dagli Oscar erano regia, miglior film, miglior attore, attrice e sceneggiatura quindi diciamo questi 5 sono i premi principali degli Oscar a cui poi nel corso del tempo si sono aggiunti altri premi comunque che lo vinca o meno è stata molto brava e l'ho particolarmente apprezzata e vorrei menzionare anche Shia Leboeuf che non ho mai capito come si pronuncia il suo nome quindi Shia Leboeuf, Laboeuf, Lapaz, Lapaz, Com'è, Com'è comunque sono stati due attori veramente bravi di cosa parla questo film? racconta le vicissitudini di questa coppia per l'appunto che ha un bambino anzi non un bambino, una bambina ma qualcosa va storto e diciamo questa cosa andrà a colpire i due genitori in modo abbastanza importante quindi le vicissitudini che legano i due andranno a metterli a dura prova loro due e anche la famiglia che gli sta intorno quindi insomma è una vicenda familiare molto toccante ma voglio soffermarmi brevemente manco tanto sul piano sequenza che sta più o meno all'inizio del film cioè il film non parte con questo piano sequenza ma arriva abbastanza all'inizio in cui percorriamo insieme ai protagonisti tutto il parto in pratica perché avviene a casa dei due i due decidono di avere la bambina all'interno delle mura casalinghe e quindi fanno venire questa infermiera questo medico in casa per far sì che ciò avvenga e quindi c'è questo lungo piano sequenza che poi sono andato a vedere dura 23 minuti comunque che lo vinca o meno è stata molto brava e l'ho particolarmente apprezzata e vorrei menzionare anche Shia LaBeouf che non ho mai capito come si pronuncia il suo nome quindi Shia LaBeouf LaBeouf, LaPast, LaPast com'è, com'è comunque sono stati due attori veramente bravi a immedesimarci ad entrare all'interno della scena quindi è stato girato in modo molto toccante e molto spesso con inquadrature molto strette sui protagonisti arriviamo addirittura molto vicini al pancione della donna vediamo a un certo punto addirittura la testa uscire dalla vagina sembra una cosa molto da programma real time però realmente anche se per brevi attimi si vede ed è molto importante questa cosa perché vuol dire anche avere molta fiducia in tutto lo staff perché andare vicino al finto pancione dell'attrice vuol dire rischiare che si veda che è finto andare vicino alla testa della bambina che sta uscendo appunto può essere molto pericoloso perché può staccarti dalla realtà e farti vedere che è una finzione quindi vuol dire anche avere molta fiducia negli effetti speciali e di tutto lo staff il fatto di fare una cosa del genere quindi molto interessante altra curiosità su questo piano sequenza è che è stato fatto in due giorni hanno fatto ovviamente vari shot e hanno optato per scegliere il quarto avvenuto il primo giorno quindi diciamo che tutte riprese avvenute dopo il quarto sono state poi scartate ho preso parte a qualche cortometraggio non sono un regista e devo dire che per quel poco di esperienza che ho fatto sono veramente complicati figuriamoci 23 minuti consecutivi comunque avviene il parto e si chiude il piano sequenza e poi il film diciamo parte realmente perché infatti dopo questo piano sequenza quindi dopo mezz'ora di film circa partono i titoli di testa appare il titolo pieces of a woman e parte il film in pratica quindi la prima mezz'ora è introduttiva addirittura un film che dura all'incirca due ore due ore e sei minuti una cosa del genere è un film molto struggente molto intenso e mi ha molto colpito il fatto che abbia cercato di essere molto realista quindi ho apprezzato questa cosa diciamo che è un po' la deriva dei film degli ultimi anni nel cercare il realismo all'interno della pellicola però con questi risultati è molto raro quindi il film consigliato attamente e anche questa recensione in 5 minuti ragazzi è finita come sempre mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo film se lo avete già visto o lo farete in seguito a questa recensione perché è molto importante per me saperlo per raddrizzare il tiro ok? iscrivetevi lasciate un like condividete seguitemi se non lo fate e ci vediamo presto con un nuovo video YouTube